La giornalista Bresciana e il bellissimo regalo ricevuto da un seguace.I seguaci di Nadia Toffa sicuramente saranno rimasti a bocca aperta Il motivo? Qualche ora fa la giornalista Bresciana ha pubblicato una scatto in una versione inedita che si differenzia dai tradizionali post che quotidianamente mette su Instagram Nel dettaglio, la conduttrice delle Iene Show ha deciso di condividere un ritratto che le ha spedito un suo ammiratore Ovviamente la diretta interessata ha gradito tantissimo il regalo e per questo motivo lo ha voluto rendere pubblico Nadia Toffa e l'appello sul suo profilo Instagram. Da quando Nadia Toffa ha raccontato a tutti di essere affetta da un tumore e sta facendola chemio per sconfiggerlo, in tanti hanno manifestato la loro vicinanza Alcune ore fa, accanto al ritratto ricevuto in regalo ha scritto questo bel messaggio di ringraziamento Ciao bella gente! Uno tra di voi mi ha fatto questo ritratto! Bravo, no! Fatti vivo che ti facciamo tutti insieme un applauso virtuale Statemi bene ragazzi e buona neve di esi semine, e vi e di esi sfreddo e buona giornata aperte virgolette Colui che glielo ha donato sicuramente avrà un grande talento visto l'espressione e la cura nei dettagli Un'immagine che ha inorgoglito la giornalista bresciana che nonostante il periodo di difficoltà non ha mai smesso di sorridere . Nadia Toffa e il ritorno alla grande alle Iene Show. Nadia Toffa da un paio di settimane è ritornata al timone della nuova edizione delle Iene Show . La giornalista bresciana, però, si è mostrata con una grande novità, che ha fatto piacere a tutti i suoi fan e telespettatori del programma di Italia 1 . Nel dettaglio è apparsa nuovamente col suo caschetto biondo, buttando via le parrucche colorate e le bandane . La donna ha deciso di mostrarsi così come anche se la malattia le ha lasciato diversi segni nel corpo .